amici carissimi di auto occasioni ben ritrovati insieme per un nuovo appuntamento ma è come oggi siete tantissimi a seguirci perché il momento in effetti è davvero particolarmente propizio per cambiare la propria vettura e per venirvi incontro siamo venuti per voi in una concessionaria che amate moltissimo che è la regina delle concessionarie la regina del risparmio ovvero siamo da queen car e oggi mi trovo per voi nella bellissima sede di carmagnola che è bella davvero spaziosa luminosa ed elegante la sede ideale in cui potrete osservare tantissime macchine per scegliere la vostra preferita e portarvela a casa in pochissimi giorni usufruire di sconti e anche di incentivi e ricevere anche un aiutino per avere delle modalità di pagamento personalizzate ma io cedo la parola a colui che sicuramente meglio di me sta farà spiegare tutto ciò dandoci tanti buoni consigli ovvero il padrone di casa fabrizio ciao fabrizio ciao a tutti ben ritrovati perché oggi vi diamo tre motivi per acquistare le autovetture da noi gli incentivi di rottamazione quindi un usato che vale zero può essere valutato fino a 10.000 euro pronta consegna reale perché qui vi aspettano 400 autovetture la voletta è nuova chilometro zero vetture aziendali benzina diesel gpl ibride full electric tutte in pronta consegna con l'operazione evergreen non dovete tirar fuori 20.000 30.000 40.000 euro per un'autovettura ma piccoli canoni piccoli sborsi mensili con furto incendio attivandalici addirittura la casco finanziaria e la manutenzione qui vi aspettano 400 autovetture tutte per voi e allora di queste 400 autovetture oggi diamo qualche assaggio partiamo con le chicche siamo pronte a seguirti fabrizio iniziamo subito pronta consegna immediata panda ibrida o gpl il caro carburante qui non è più un problema esenzione bollo a partire da 89 euro al mese tutte in pronta consegna e sempre pronta consegna parliamo di panda 1200 gpl esenzione bollo city life pronta consegna immediata a 119 euro al mese introvabile qui alla queen car pronta consegna panda cross city cross a partire da 159 euro al mese pronta consegna immediata parliamo della 500 hybrid gpl esenzione bollo tutte in pronta consegna pensate con l'incentivo di rottamazione a partire da 109 euro al mese non vettura usata vettura nuova in pronta consegna immediata e l'autovettura ideale per le vacanze per la famiglia un bagagliaio enorme parliamo della 500 l tutte in pronta consegna 1400 benzina allestimento cross versione full opsena a soli 199 euro pronta consegna non aspettare 120 giorni parliamo di novità assoluta qui alla queen car parliamo della 500 x nuova motorizzazione 1300 hybrid un motore eccezionale consumi ridotti a partire da 249 euro al mese sempre casa fiat novità assoluta la nuova tipo 1500 hybrid 130 cavalli per abbassare le emissioni di co2 per abbassare i costi di carburante a partire da 249 euro al mese tutta la gamma tipo cross station wagon 5 porte tutte in pronta consegna a partire da 149 euro al mese qui car concessionario ufficiale lancia presenta la nuova lancia y gpl esenzione bollo attenzione al prezzo 129 euro al mese esenzione bollo parliamo della lancia y sempre tutta in pronta consegna 129 euro al mese tutta la gamma gip in pronta consegna gip compass 1.6 multijet allestimento limited 349 euro al mese chip renegade benzina o diesel tutte in pronta consegna attenzione prezzo 199 euro al mese qui car concessionario ufficiale mizu bici presenta la space star 1.2 benzina benzina e gpl pensate cinque anni garanzia a partire da 99 euro al mese e con 129 euro al mese portate a casa questa bellissima nissan micra 1100 cavalli soli 129 euro al mese sempre vetture aziendali 500 1200 lounge con soli 139 euro al mese full optional bianco metallizzato sempre vetture aziendali nissan cascai con pochissimi chilometri 199 euro al mese tutta la gamma fiat tipo station wagon 5 porte vetture aziendali allestimento miro 2020 a soli 149 euro al mese sempre vetture aziendali fiat 500 x 1000 turbo benzina 120 cavalli 169 euro al mese jeep compass hybrid o diesel vetture aziendali pensate con soli 249 euro al mese zero emissioni parliamo di 500 elettrica 350 chilometri d'autonomia pensate 10.000 euro di incentivo rottamazione può essere tua a partire da 199 euro al mese qui car concessionario ufficiale abart presenta la nuova 695 s in pronta consegna 180 cavalli chilometro zero può essere tua con 299 euro al mese fabbri è sempre un piacere venire qui da voi perché ci sono tante buone notizie tanti buoni motivi per venire di persone quindi ammirare con i propri occhi le bellezze vogliamo ricordare gli indirizzi per raggiungervi sì qui abbiamo tre showroom torino in corso grossetto 18 pianezza in via susa 52 e lo showroom dove stiamo girando adesso grande novità a car magnola in via porino 6 quindi venite qui scegliete la vostra auto e la ritirate in pochi giorni quindi mi raccomando non perdete questa occasione vi aspettiamo nel frattempo ci vediamo nel prossimo show io vi mando il solito carissimo saluto da parte di auto occasioni di queen car di fabrizio e di federica grazie a tutti